Loredana Nushak, un nome che forse a molti non suonerà familiare, ma la sua vita e la sua triste storia sono testimonianza degli alti e bassi che spesso accompagnano una carriera nel mondo dello spettacolo. Nata il 10 agosto 1942 a Bucharest, in Romania, Loredana Nushak sarebbe diventata un'attrice nota per la sua bellezza accattivante e la sua enigmatica presenza sullo schermo. Tuttavia, il suo viaggio nell'industria cinematografica è stato irto di sfide e tragedie personali che gettano un'ombra sulla sua promettente carriera. I primi anni di Nushak furono segnati dalla passione per le arti, in particolare per la recitazione. Ha perseguito il suo sogno con determinazione, affinando le sue capacità presso l'Istituto di Teatro e Cinema di Bucharest. Il suo talento e il suo aspetto sorprendente attirarono presto l'attenzione dei produttori cinematografici, portandola al suo debutto nel film rumeno del 1961 Ciulinii Baraganului. Ciò segnò l'inizio della sua carriera di attrice ed era chiaro che possedeva una rara miscela di carisma e talento che avrebbe preso il suo posto. Tuttavia, è stato solo quando Loredana Nushak si è trasferita in Italia che ha lasciato il segno sulla scena cinematografica internazionale. Arrivò in Italia negli anni Sessanta, un periodo in cui l'industria cinematografica italiana era fiorente, producendo film iconici che sarebbero diventati dei classici. L'aspetto sorprendente e la presenza magnetica di Nushak le hanno fatto guadagnare rapidamente ruoli negli spaghetti western, un genere che stava guadagnando popolarità a livello globale. Il suo ruolo più importante è arrivato nel capolavoro di Sergio Leone del 1964, per un pugno di dollari, con protagonista accanto a Clint Eastwood. Nushak ha interpretato il personaggio di Marisol, una donna intrappolata in una città violenta e senza legge. La sua interpretazione ha aggiunto profondità al film e ha contribuito al suo status iconico. Il successo di Loredana Nushak in, per un pugno di dollari, le ha aperto le porte nel mondo del cinema italiano. Ha continuato a lavorare in vari film, spesso interpretando una donna affascinante e misteriosa con un passato tragico. I suoi ruoli in film come Navaio Joe e La notte del serpente hanno ulteriormente consolidato il suo status di presenza accattivante sullo schermo. La sua bellezza e il suo talento sembravano promettere un futuro luminoso a Hollywood, ma purtroppo la sua vita personale è stata segnata da disordini e tragedie. Dietro la facciata glamour, Nushak ha dovuto affrontare numerose sfide personali. Ha lottato con una relazione romantica tumultuosa e ha sopportato la perdita della sua amata figlia in un tragico incidente. Questi traumi personali hanno messo a dura prova il suo benessere mentale ed emotivo, portando a un declino della sua carriera. Con il passare degli anni, la sua carriera di attrice, un tempo promettente, è scemata e si è ritrovata in un mondo molto lontano dallo sfarzo e dal glamour del grande schermo. La vita di Loredana Nushak ha preso una svolta toccante mentre combatteva contro problemi di salute nei suoi ultimi anni. L'attrice che un tempo aveva onorato gli schermi con la sua eleganza e il suo fascino si ritrovò ad affrontare la dura realtà della malattia. Nonostante le difficoltà che ha sopportato, la passione di Nushak per la recitazione non è mai venuta meno. Ha continuato a fare apparizioni occasionali nei film, anche se questi erano lontani dalla pace della sua carriera precedente. Tragicamente la vita di Loredana Nushak è stata stroncata. L11 febbraio 2007, all'età di 64 anni, muore a Roma, in Italia. La sua morte segnò la fine di una vita segnata sia da trionfi che da tribolazioni. Anche se potrebbe non aver raggiunto il livello di fama raggiunto da alcuni dei suoi contemporanei, il suo contributo al mondo del cinema, in particolare nel genere spaghetti western, rimane significativo. In retrospettiva, la storia di Loredana Nushak funge da toccante promemoria della natura imprevedibile e spesso crudele della vita nel settore dell'intrattenimento. La sua bellezza, il suo talento e la promessa di un futuro luminoso furono oscurati da tragedie personali e problemi di salute. Tuttavia, lascia un'eredità nel mondo del cinema che continua ad essere celebrata dagli appassionati del genere spaghetti western. In conclusione, la vita e la triste storia di Loredana Nushak testimoniano la complessità di perseguire una carriera sotto i riflettori. Il suo viaggio è stato segnato sia da momenti di trionfo che da profondo dolore, e la sua eredità continua a ricordarci che, anche di fronte alle avversità, la propria passione e il proprio talento possono lasciare un segno indelebile nel mondo del cinema. Loredana Nushak sarà anche un'attrice meno conosciuta, ma la sua presenza sullo schermo sarà sempre ricordata da coloro che apprezzano l'arte di raccontare storie attraverso il cinema.